Tu fumi eh! Figaro di brutto anche! Senza svaparti eh! Sembra quello il cartone animati, il cane, quello che facciamo nelle gare delle nese, troppo giovane. Vai, vai! Bravo! Ma è la corso più pazza del mondo! Ah, uguale! Un'altra e basta qua eh! Come si chiama Michele? Chi? Michele? 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 Michele! Secondo me sei arrivato! Sì! E lui? Ali! No, ma lui? Lui non è arrivato! Ma dai! Adesso ne mettiamo giù una lì avanti bella! Vada a Scarligano! Vada a Scarligano! A zero! A zero! A zero! Bravo! Giù! Allargati bene! Dai! Tronchetto! Tronchettino! E chiudilo subito eh! Non lasciarlo andare via! Via 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 via! Così! Allargati bene! Allargati! Fa niente! Non tieni più! Basta! Basta! Non tieni! Ormai era arrivato eh! Non so! Non faccio male! ... Mescolate! Un sad però... Che e ha fatta. Ce lei specifica è una un sattura recessica. Lato verso शip redefini. E quello è proprio questo è. Non la faccio più eh! E lo metto dico! Non la faccio mai proprio a punto. E quello è che si buona la faccia e la faccia. Le devi metto escano io. E' acco. Questa è bella Questa è più bella, meno scivolosa e meno incasinata Si ma è una leggera che dopo andiamo su al sole magari La Puglia è più bella, più bella, più bella, più bella...